Negli episodi precedenti, dopo tante fatiche, Berri è finalmente riuscito ad arrivare alla pressione di balle dove ha incontrato suo fratello Ma lui lo riconoscerà? Scopritolo on nel nuovo episodio di The Long Dark Hello, sono tutti, sono Berri ed eccoci qui in questo nuovo episodio di The Long Dark Dove è stato fatto un aggiornamento e hanno aggiunto davvero molte molte cose Però le cose più importanti riguardano la Pleasant Valley, ovvero il posto dove ci troviamo ora E il comportamento di lupi e orsi Quindi adesso praticamente i lupi sono un po' più facili da individuare O meglio, è un po' più facile capire le loro intenzioni, cosa vogliono fare, se ci vogliono mangiare oppure meno Perché adesso i lupi possono anche non inseguirci subito E quindi attaccarci solo se siamo noi ad avvicinarli E robe così, o almeno questo ho capito Però spero di non sbagliarmi Comunque è sicuro che adesso i lupi hanno diversi tipi di suoni Per farci capire che cavolo vogliono fare Comunque, ho bevuto e mangiato un po', ho anche dormicchiato Uhuh, beef jerky Per migliorare un po' le nostre caratteristiche E adesso volevo andare un po' in giro ad esplorare Fare delle veloci esplorazioni casalinghe Però esplorare per bene le case Solo quando non avrò niente da fare Tipo, wow, che casa di cavolo che è questa Tipo qui c'è della cloth Del reclaimed wood Non ne abbiamo bisogno L'orange soda adesso La drinko pure Ok Poi vediamo un po' cos'altro c'è Ma non mi aspettavo di trovare una casa root Ok, speriamo una lampada Accendiamola Ecco qua, così vediamo meglio Non mi aspettavo di trovare una lampada root Ok, allora qui si esce di nuovo C'è non una lampada, una casa Ok, lì dello scrap metal Ok, per ora sta roba non ci serve Quindi possiamo andarcene Possiamo andarcene Poi sono state aggiunte molte altre cosettine Un po' più minori Sono stati fissati un sacco di bug Sono state cambiate alcune cosette Però comunque è migliorato ancora Questo fantastico gioco Allora Qui questa casa è proprio tutta distrutta Chissà se c'è roba pure nella posta Uh, posso controllare anche la mailbox Ha! Magari tipo posso usare la posta Per Accendere il fuoco No Oppure magari qualcuno si era fatto spedire Una pistola Prima della fine del mondo E magari ci trovi la pistola dentro Allora, mentre stiamo giocando Sto anche facendo altra roba con il computer Quindi spero che non laghi Però non sembra Che ci porterà il lag Uh, lì c'è una Cascata di acqua calda Penso Perché comunque non è ghiacciata Però comunque l'acqua in movimento Non si ghiaccia Allora Qui ci sono altre case Ci sono altre case E una cosa intelligente che potrei fare È seguire i fili del telefono Barra elettricità Per vedere Per andare in posti Uh, ciao sole Per andare in In posti Utili Sì Ok, questa Ha tanto l'odore di Negozio Barra casa abbandonata Quindi vediamo un po' Rural store Sì, quindi è un negozio Wow Sì Andiamo Uh, bello Allora Qui c'è Roba Poi qui sugli scaffali c'è altra roba Ok, quindi per il cibo Qui vicino Posso restarci davvero tanto tempo Per quanto riguarda cibo e simili Perché comunque c'è un bel po' di roba Beh, di certo Anche se ci trovavo tipo soldi e cose simili Non è che mi servivano a chissà cosa Potrebbero tipo Uh, cos'è? Un bandage Potrebbero se Uh No Quella da prendi su Bene, bene Sta roba tipo medicina la prendo subito Perché non si sa mai cosa si può incontrare in giro Però tipo roba di cibo eccetera Meglio di no Perché comunque ho poca roba da prendere E la roba di solito pesa Ok La prendo va Questa E prendo anche la bandages E adesso Vabbè hunger Sì è un poco più alta Quindi adesso ci mangiamo questa energy bar E mi ha dato anche un miliardo di calorie Perfetto E adesso solo la fatighi un pochettino Ok, adesso spengo l'accelerante No, perché comunque Nyee Non accendiamo i fuochi Di solite Quindi Allora Cos'è? The outdoors Woohoo Summer party E poi hanno Aggiustato anche qualcosa col salvataggio Però non ho ben capito Che cavolo hanno aggiustato Vabbè Perché l'ho letto un po' di sfuggita Prima di iniziare a giocare Allora Vediamo un po' qua dentro Se c'è qualcosa di Un po' più utile Del normale Ah ok Questa è sempre un'altra casa rotta Eeeh No, non mi sembra di vedere niente Di chissà che cosa Ok Mi sa che nelle case Uh Ciao Mi sa che nelle case rotte Non c'è Chissà che cosa Tranne tipo Un po' di reclaimed wood Eccetera Chissà poi se qui posso farlo Il fuoco Sì va bene che è di legno Però me ne esco Prima che si accendi Vabbè Mi sa sì che non è una buona idea Oh Che sta succedendo? Ehi Ci ha messo un pochettino di tempo Questa volta a caricarsi Allora Prima A continuare un po' Per questa strada Poi se incontriamo Qualcosa di brutto E cattivo Ce ne torniamo dietro Ok Mi sembrava di aver già visto Qualcosa di brutto e cattivo Ma mi sbagliavo E questa Pleasant Valley E' molto valley Effettivamente Nel senso che proprio E' una pianura O anche detta valle Per termine letterale Oh Lì c'è un lupettolo Che sta venendo Verso di noi Mi sa Ok Comunque io Ho i flare Ho qualcosa Ho anche un fucile Se non ricordo male Sì ho anche un fucile Non ricordavo male Ok Lì c'è un altro lupo Una bella cosa Che si potrebbe aggiungere Se non è già stata aggiunta Però io non Sono ancora riuscito A trovarla E' un binocolo Che così Si potrebbe vedere Tipo se i lupi Stanno venendo Verso di noi Oppure no Ah un altro aggiornamento Buono che hanno fatto E' che se Ammazziamo Troppi lupi O Troppi Conigli O Troppi Robi viventi Cioè tipo Troppi animali O qualsiasi altro animale Ci sia Lupi Conigli Orsi Non so se c'è anche qualche animale Tipo l'anatra Può andare a caccia di anatre Ma non credo Perché è inverno Comunque Anche perché non credo Che la canada Sia un clima molto Favorevole Alle anatre Comunque Se Troviamo Qualche animale Tipo Ne ammazziamo troppi Per un bel po' Potremmo non vederne più Quindi adesso Quel lupo Sta andando Ad ammazzare Il coniglio Ok vediamo Dal vivo Cold non mi sia Alla momento Uh l'ha acchiappato Oh 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 Vediamo di non essere I prossimi eh Oh oh Ehi via Via Ah Guarda che salto Dai non voglio usare Il flare Ma mannaggia te Wow 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 Com'è che si lanciava Via Oh Equip Oh Non posso risalire Come mai Ok posso risalire Oh certo Che se ne è scappato Per un bel po' Vabbè Abbiamo un po' Buttato un flare Però non fa niente Siamo ancora in fase Di impariamo a giocare Perché poi Quando non saremo più In fase di impariamo a giocare Non mi muovo da una casa Finché non sto tipo Crepando Di fame Eccetera Perché E' questo il modo Di sopravvivere Poi comunque Un'altra piccola cosa Minore Che non interesserà La maggior parte Delle persone Stavo per dire Delle people Vabbè E' che hanno aggiunto Diversi nuovi Achievement Se non erro 9 Ma non ricordo bene Mi sembra 9 E appena sono entrato Paff Ne sono spuntati 2 Ovvero Sopravvivere 1 E 2 giorni Quindi sono riuscito Già ad ottenere 2 achievement Oh yeah E poi hanno anche aggiunto L'achievement Di sopravvivere 100 giorni O 200 giorni Buona fortuna Sopravvivere 100 200 giorni Eh già Uh Mi sa che siamo arrivati In una nuova casa Contemplation Bridge Ok Questo è un bridge E li vedo Delle Palle di fieno Uh Cioè delle Palle di fieno Uh Oh Ma perché il calore Non salve Non sale Non è che è un bug O forse Adesso sono Talmente vestito bene Che ci vuole un po' Per farmi Per far salire il freddo Sì potrebbe essere E lo spero Ah però ci sono I lupi E allora Vediamo Soda Bear Non hai cercato Nella Nella Portabagagli È perché non ho Un piede di porco Eh di là Mi sono Dimenticato Di cercare dietro Però va bene Ok Quel lupo Sta correndo Parecchio So che Ah ecco Perché sta correndo Parecchio Stava Chiappando Cioè stava Dando la caccia A un coniglio So che non è molto Saggio andare qua Se ci sono dei lupi Però vorrei provare Ad entrare Nel In quella roba Io voglio vedere Se si può entrare Non ne ho idea In Coombed Perché Cioè di così All'improvviso Ah è la Pesed Valley Outbuildings Uh cosa c'è là dentro Ah è il legno Ok Ok i lupi Non stanno venendo Uh chissà Se si può entrare Spero di sì E beh Se non si può entrare Me ne torno Di là Trattore Posso entrare Nel trattore E scappare via Vero No Roba e volanti Un cappello E altre robe volanti Ok Ok vediamo se posso entrare Ok da qua Non posso entrare Però di qua ho visto Una porta Quindi Oh Baby Entriamo nel barn Non è che ci sono Ospiti inattesi Vero nel barn Perché ne so C'è un cavallo assassino Oh Non c'è un cavallo assassino Però c'è sto tizio Oh però Si rumori Ah Allora vediamo C'è un letto Per dormire No ok Non c'è un letto Per dormire Però comunque Noi abbiamo il bedroll Per vedere se Comunque possiamo dormire Eccetera Sono stati aggiunti Aggiunti Sono stati aggiunti Anche dei crafting Se non erro Uh adesso il crafting È fatto meglio Allora Un hook Lo scrap metal L'ho posato E vai Ok Ok non posso fare Una mazza Posso fare niente Ok Ok se è anche spento Posso fare una mazza Chissà se posso farlo Il fuoco Qua dentro Uh Disettico E robe Perché nel free Il kit C'è una Barretta di cibo Vabbè Allora adesso Vediamo Ah ok Quindi anche la La barn qui vale Come indorse Beh effettivamente Come è fatta di legno Però tipo Lì sotto Se lo faccio Beh accendiamo O perché non si sta accendendo Ecco qua Se lo faccio tipo Qua Non dovrebbe No Prendere fuoco tutto Ma vabbè Allora Scrap metal Qui È un po' Io l'ho posato tutto No io l'ho posato tutto Quindi Se trovo tre pezzi qua Mi faccio un hook E poi magari Se troviamo qualcosa Ci andiamo pure a pescare Altrimenti no Ok c'è il reclaim La Fire barrel Uh Posso accenderlo qua Il fuoco Uh Ah Potrei accenderlo qua Il fuoco Però no Ok mettiamo Il bedroll Qua E proviamo a dormirci Un'ora Non c'è ormai Dormito No Ah Ho premuto BK Invece di resta Uh Ho lasciato la cosa accesa E vabbè Fa niente Ok Ok il freddo Non è aumentato Il freddo Non è aumentato Quindi ci posso dormire Senza problemi Ma Dormiamoci No meglio Dormirci ora Non si sa mai Abbiamo un'oretta E vediamo Il fuoco Il fuoco si sta spegnendo Non va bene Questa si che è una dimora Ma lo sarà per sempre Scopritolo nel prossimo episodio di Dormi 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 Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere tramite un like Un commento Ma non per quella cosa Un milione di like Sono il più figo di tutti Oh yeah Ma semplicemente perché così capisco Se una cosa vi piace Oppure meno E Grazie per aver visto questo video Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao